Ciao quericini belli, questo mini video è per rispondere a delle vostre domande, farò dei mini video per accontentare tutti. Allora, questa domanda di Giovanni, il Milan vincerà lo scudetto? La situazione non è chiara Giovanni, quindi dipende anche dalla squadra come si comporterà. Poi, Rita mi ha fatto un'altra domanda, posso continuare a coltivare le mie passioni? Io, a parte la risposta del libro, spero proprio di sì e te lo auguro. Comunque vediamo cosa dice. Usa la creatività per trovare la soluzione, quindi è una domanda positiva, auguri Rita. Poi, Serena mi ha chiesto se riuscirà ad andare in vacanza senza intoppi e senza dover disdire. Vediamo, Serena, anche per te spero che tu riesca ad andare in vacanza. Chiediamo, libretto. Non farti troppe aspettative. Oh no, mi dispiace, questa non è una bella domanda, una bella risposta, ma penso che siccome è un gioco tu riuscirai benissimo ad andare in vacanza. Un bacione, ciao!